Università del Vino si parte con il corso quinquennale. Sono iniziate oggi nella sede di Vialitalia ad Avellino le lezioni per la laurea magistrale in scienze enologiche che completa il percorso degli studi avviato con l'atriennale in viticoltura ed enologia. 20 studenti che si andranno ad aggiungere a quelli già iscritti e provenienti da tutta Italia. Il capologo Irpino è l'unico nel mezzogiorno dove sarà possibile realizzare questo percorso di studi e di ricerca. L'Irpino è sicuramente l'eccellenza, un'eccellenza sicuramente in campagna ma a livello nazionale e sta sicuramente svolgendo un ruolo fondamentale anche a livello europeo e mondiale. I docenti Moio e Frusciante, quest'ultimo fondatore della facoltà, parlano di occasioni irripetibili per il territorio irpino e chiedono il sostegno delle istituzioni, mentre il collaboratore Boris Basile ha illustrato il percorso magistrale e si è soffermato sulle possibili ricadute occupazionali per i ragazzi. Siamo diversi corsi da seguire che trattano tutti gli aspetti della viticoltura e enologia, sempre con questa impronta varietale e territoriale, sia aspetti microbiologici, sia aspetti genetici, di viticoltura, di enologia, terroir, pedologia, tutti gli aspetti di analisi sensoriale. A parte fare l'enologo nel senso più moderno del termine, quindi un enologo che sappia gestire, sappia progettare il vigneto, gestirlo e effettuare anche la parte enologica, ma anche c'è tutta una parte di ricerca che si apre per questi ragazzi.